Calcio di punizione battuto da Insigno e Polato E vai! Sì! Bonucci esulta! Esulta con una divisione! Me ne frego un cazzo se mi sta sui coglioni Bonucci! Alla prima occasione l'Italia... Vabbè che mi sta sui coglioni ma non lo puoi annullare dai! Rivediamo! Vedi in tercivezza Chiellini va! Che se c'è questa nuova... Allora stanno valutando... Attenzione il VAR sta valutando la posizione di Chiellini Quindi c'è un check al VAR... Di Lorenzo... Una volta che aveva spostato gli equilibri... Gli tolgono il gol... Gli annullano il gol... Ma vaffanculo! Boutaina! E vai! Sì! E adesso questo è buono! Poi grande Barella ragazzi... Barella è il giocatore che vale di più di quest'Italia... Termini di... Valore di mercato... E giustamente ci ha trascinato al gol! E andiamo! Spazio però per Insigne... Un po' scoperta adesso la difesa del Belgio... I due centrocampisti... Vizzele e Tileman si fanno fatica... Vai Insigne! E poi il tiro a giro è arrivato! Oh... Finalmente ragazzi... Finalmente la giocata di personalità che si voleva in questo europeo... Ragazzi alla fine ce l'ha fatta a farlo un tiro a giro... Che è entrato dentro... E Lukaku muto... Muto... Complimenti... È questo che ci si aspettava da Insigne ragazzi... Un po' generoso ragazzi... E' d'altro canto in... Dai Donnarumma! Lukaku non ha mai sbagliato il rigore con l'Inter... Spiazza Donnarumma... Accorcia le distanze al 47esimo minuto... Ragazzi che cazzo di rigore è quello? Questo uno... E' saltato come una molla quando l'ha toccato... Il rigore è ridicolo eh... Proprio sul finire del primo tempo ragazzi... Che cazzo... Cioè guarda lì pare che ha sparato con un C4... E fischia oh... Che cazzo si volti tu dalla Roma... Non te lo puoi permettere... Donnarumma dalla carica... Donnarumma dalla carica ai tifosi... Questa è la reazione dei tifosi azzurri presenti qui a Monaco... Dai ragazzi oh... Fischiamo cazzo... È passati due minuti... Sette minuti di recupero... Manca solo il fischio del... Dai fischia su... Protagonista... Fischia... E andiamo... E andiamo a Wembley ragazzi... Lukaku... A casa... De Bruyne... A casa... Martínez... A casa... 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 Grazie a tutti.